Posso capire che il 99% dei sardi non abbia voglia di immaginare un sistema democratico più giusto. Posso capire che a furia di pensare ad un nuovo sistema di democrazia al 99% viene mal di testa. Il fatto è che siete pigri, avete la testa piena di spazzatura, piena del concetto che questa è la democrazia perfetta. Non è vero. Posso capire che un cambiamento radicale non è facile da immaginare. Posso capire che il 99,9% dei sardi preferisca non esporsi. Tanto ci sono gli imbecilli che rischiano per loro. Quello che non riesco a capire è la vostra apatia mentale quando difendete ancora questa democrazia manipolatoria. Quando non riuscite ad immaginare che possiamo autogovernarci senza politici e senza partitocrazia. Non riesco a capire il 90% dei sardi che non hanno voglia di informarsi. Un popolo ignorante, contento di votare, è facilmente manipolabile. Se arriveremo ad una vergognosa dittatura che è alle porte, ce la saremo meritata.